Allora siamo di fronte a qualcosa di incredibile con milioni disoccupati e se non facciamo reddito di cittadinanza le persone che perdono il lavoro non ce l'hanno, sono borderline con la legalità, costerà molto di più lo Stato gestire delle persone senza lavoro, devono essere reintrodotte nella società con reddito